La scomparsa di un furgone portavalori e del suo prezioso carico, 3 milioni di euro provenienti dalle entrate del casino di Saint Vincent, apre l'ultimo romanzo di Antonio Manzini, presentato al Media Museum di Pescara nell'ambito degli eventi artistici promossi dalla Fondazione Edoardo Tiboni e dall'Associazione Culturale Ennio Flaiano. Ancora un'indagine serrata per il vicequestore Rocco Schiavone, reso noto anche dalla riuscita a interpretazione televisiva di Marco Giallini. Manzini, con i tempi comici perfetti e la sua grande capacità affabulatoria, ha intrattenuto il pubblico della Media Museum facendolo sorridere spesso. A dialogare con lui il giornalista Paolo Smoglica e Romina Remigio, fotogiornalista. Ancora avventure per Rocco Schiavone, un Rocco Schiavone però, lei diceva poco fa, anche un po' cambiato, sta attraversando un percorso. Attraversando la vita come tutti noi, gli passa il tempo, gli passano le giornate, le ore, i mesi e gli anni. E sì, come tutti noi cambia. Quello che vorrei dire io su alcune cose, a volte lo dice Schiavone, a volte lo dice la storia, a volte lo dicono gli amici, lo dicono altre persone, però un po' si vince quello che vorrei dire su questa società, sulle persone che incontro, sulle cose che mi fanno male, che mi intristiscono, oppure le cose che invece mi fanno felice. Schiavone sicuramente non è il poliziotto modello, però lei ha detto poco fa, forse è meglio un poliziotto un po' bandito che i banditi altri che si mascherano da... Sì, è meglio un bandito dichiarato che prende il suo rischio e va in galera, non l'assassino del bandito, sono due cose diverse, piuttosto che avere invece dei finti governatori che sono dei banditi e che però non hanno neanche il coraggio di affrontare la pena quando vengono presi con le mani nel sacco. In questo romanzo c'è anche più spazio per quelli che erano i comprimari, forse più nei precedenti. Sono persone loro sostanzialmente, verosimilmente delle persone, anche loro hanno una storia, hanno delle gioie, dei dolori, hanno da raccontare la loro vita, hanno voglia di raccontarla. E torna sempre volentieri nella sua Abruzzo, perché ha radici anche in questa regione, come la trova ogni volta che torna? La trova cambiata in qualche modo? No, non la trovo molto cambiata. Vedo che c'è e dipende sempre dalla stessa parte e commette sempre gli stessi errori. un po' come tutto il paese, non abbiamo molta voglia di imparare dalla nostra storia, sembra che noi la storia sia un po' come una doccia fresca. E invece dovremmo un po' ricordarci, se non altro, dove è che abbiamo sbagliato.